Torna ad essere pesante, tesa la situazione all'interno degli stabilimenti Salpa-Rolli di Roseto per quanto riguarda il futuro dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali sono seriamente preoccupate per lo scenario che si sta dipingendo, emerso nel corso di un incontro che si è tenuto in regione tra i vertici aziendali, rappresentanti della RSU, il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Sul tavolo il piano industriale dell'azienda che opera nel settore della lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, soprattutto alla luce del trasferimento di parte delle attività nei nuovi capannoni di Alanno. Le organizzazioni sindacali e la RSU, si legge in una nota, ritengono che quanto emerso in via ufficiale da parte aziendale porterà a problematiche occupazionali con riduzione di ore di lavoro sia nella fase transitoria che in quella dell'assetto definitivo. Secondo quanto emerso dagli stessi rappresentanti sindacali ad una parte dell'attuale Forza Lavoro per lo più operai con contratti a tempo determinato, verrebbe proposto un trasferimento nelle strutture di Alanno, una situazione che non tutti gli operai sono in grado di accettare, soprattutto chi ha famiglia. Si tratta al momento solo di ipotesi ai rappresentanti sindacali. Comunque l'azienda ha proposto nel corso dell'incontro in regione un testo che riguarderebbe proprio lo sviluppo del piano industriale che prevede anche le posizioni lavorative. Si tratta comunque di un documento di cui i sindacati ignoravano l'esistenza e che dovrà essere esaminato e approfondito per elaborare eventuali modifiche. Il vicepresidente Lolli nel corso della riunione ha suggerito alle parti di fissare un nuovo incontro previsto a questo punto per il 6 luglio prossimo all'Aquila nella sede della regione per cercare di superare tutte le difficoltà finora riscontrate all'interno del nuovo piano proposto dalla Salpa che metterebbe a rischio i livelli occupazionali all'interno delle strutture di Roseto.